Ciao a tutti ragazzi sono TweetRake e benvenuti in un nuovo video Siamo sempre qui con le sfide Rimedio vs Tossina E stavolta vi spiegherò come affrontare la sfida di visitare diverse fermate del bus in una singola partita Io vi consiglio di andare nella modalità Rissa Squadre Ragazzi è un casino di volte sto provando a fare sta missione Ma sfortunatamente mi capita sempre un bug che l'ultima fermata non me la conta Quindi adesso sto provando in un modo diverso Allora andiamo come primo step a sabbie sudate Allora vi consiglio prima di tutto di fare Rissa Squadre e di fare a tutti i costi il modo che vi trovate nella parte nord Se siete giù o siete per lato ricaricate la partita se no molto probabilmente vi si bagga come mi si è baggato a me Quindi andate come prima di tutto a sabbie sudate e come vedete già lì c'è la vostra prima fermata Ok una volta che l'abbiamo presa adesso andiamo verso Borgo Bislacco Velocemente prima che la tempesta ci uccida Ok ragazzi una volta a Borgo Bislacco vi basterà andare di fronte alla pompa di benzina E come vedete qui c'è la nostra seconda fermata E ovviamente come al solito è baggata non capisco perché questa fermata non dà nulla Se a voi ve la dà siete fortunati e in questo caso andate adesso verso nord, verso qua, verso parco pacifico Come vedete già da qua intravediamo la nostra tra virgolette ultima fermata Ok anche qua missione compiuta Ok ragazzi siccome siamo a Rissa Squadra mi ha fatto rispannare qui a siepi da grifoglio Vediamo se questa qui funziona speriamo Niente sono baggato Ne dà solo due mi sa Niente non capisco se sbaglio io o se il gioco è baggato Comunque io vi ho mostrato più di una di posizioni dove trovare di queste maledette fermate Spero che l'epic risolve se è un bug E niente noi ci vediamo a un prossimo video Lasciate like, iscrivetevi al canale E ciao a tutti Ciao